Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. ...imposto ai decreti legge la omogeneità, ma questa omogeneità non è una omogeneità soltanto di oggetto, ma può essere anche una omogeneità di funzioni e di finalità. E' sempre la sentenza 22, poi seguita da altre successive fino alla 247 del 2019. In questo caso la connessione finalistica e funzionale tra le norme del decreto legge c'è e quindi dubbi sul rispetto del criterio della omogeneità non ne avrei e non ne avrei nemmeno sul rispetto dei requisiti della necessità dell'urgenza, perché si tratta di fronteggiare l'emergenza pandemica e le sue conseguenze. E' precisato questo, veniamo alla prima delle tre questioni che ho identificato e cioè all'articolo 1,2 del decreto legge dove si stabilisce che si può esercitare un potere derogatorio delle misure generali con una deliberazione del Consiglio dei Ministri, ancor che nel rispetto del decreto legge 19 del 2019. Ora, ci si può chiedere se questo sia legittimo, cioè se l'affidamento alla delibera del Consiglio dei Ministri sia compatibile col principio di riserva di legge. Io credo che si possa rispondere affermativamente. Non è mai elegante autocitarsi, ma per semplicità ricordo cose già scritte molto tempo addietro, cioè in occasione dell'inizio di questa disastrosa emergenza pandemica. E cioè che noi abbiamo a che fare non con un terremoto o con un alluvione, che sono dei fatti determinati ormai verificati, ma abbiamo a che fare con un processo. E l'esperienza ci ha insegnato che questo processo è in continuo mutamento, in continua trasformazione, in continuo adattamento. E in continuo mutamento, trasformazione e adattamento debbano essere le risposte delle istituzioni. Quindi la flessibilità che è consentita da uno strumento diverso dalla norma primaria, a mio avviso, è pienamente giustificata sul piano costituzionale. Semmai mi permetto di avere qualche perplessità proprio sulla identificazione dello strumento della delibera del Consiglio dei Ministri. Qualche perplessità perché forse sarebbe più opportuno pensare ancora a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa, conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri. In questo modo sarebbe attratta nella sfera della piena collegialità la decisione che precedentemente era stata affidata all'atto monocratico del Presidente. dal codice della protezione civile e dal decreto legislativo 1 del 2018, un atto che è previsto anche dalla catena dei decreti legge che si sono succeduti in questa emergenza pandemica. Seconda osservazione, veramente puntuale, sull'articolo 4, sono le misure precauzionali nei confronti del personale sanitario che non si sottopone alla vaccinazione obbligatoria. Qui, secondo la mia personale opinione, c'è un problema, e cioè il fatto che quando l'obbligatorietà o il differimento della vaccinazione dipendono dall'accertato pericolo, la razza di questa previsione limitativa di queste misure precauzionali è la tutela della salute pubblica. Non è la sanzione nei confronti dell'operatore sanitario che ha stabilito di non sottoporsi alla vaccinazione. E quindi non mi sembra ragionevole la mancata estensione delle misure precauzionali anche all'ipotesi del difetto di vaccinazione per ragioni indipendenti dalla volontà dell'interessato, cioè dipendenti semplicemente dalla sua condizione di salute. Teniamo presente che si tratta di un trattamento sanitario obbligatorio, non coattivo, e che i trattamenti sanitari obbligatori hanno già passato il vaglio di costituzionalità, e in particolare per quanto riguarda le vaccinazioni ricordo anche semplicemente la sentenza della Corte Costituzionale numero 5 del 2018 giù giù sino alla recente pronuncia sulla nota legge regionale della Valle Nostra. Vengo all'ultima questione sulla quale con il suo consenso Presidente mi tratterrei leggermente, con meno sintesi insomma, che è quella dell'articolo 10, cioè delle misure in materia di pubblici concorsi. Mi intratterrei di più su questo perché questa è la disciplina che ha sollecitato il maggiore dibattito nella pubblica opinione, dividendosi coloro che hanno criticato le nuove misure perché creerebbero una disparità di trattamento tra giovani appena affacciatisi al mondo del lavoro ed altri che sono già presenti, hanno esperienza, e chi invece ha apprezzato queste misure perché eviterebbero proprio la penalizzazione dei giovani che sarebbe determinata dalle lungaggini concorsuali e dal ricorso alle graduatorie a scorrimento. Le posizioni, tanto per capirci, di Boeri e Perotti da una parte e di Cazzola dall'altra. Ora io penso che i dubbi di costituzionalità che sono stati affacciati da molti non sussistano in via generale, sottolineo in via generale. L'ammissione ai concorsi in ragione dei titoli posseduti, infatti è contemplata dal nostro ordinamento, la conoscono già le norme vigenti, le norme generali vigenti, dopo il DPR 487 del 94, e non mi sembra che trovi ostacoli costituzionali. è legittimo stabilire dei requisiti di partecipazione a prove selettive per accedere a un pubblico impiego. Del resto è noto che i numeri sono tali che è impossibile un accesso indiscriminato, vero? Il sistema che abbiamo seguito fino adesso è un sistema non soddisfacente. Non ho trovato nessuno che lo difenda a spada tratta, cioè il sistema dei test di ingresso a risposta multipla. Sappiamo bene come funzionano questi... Sembra porre problemi gravi di legittimità. Ricordo una pronuncia dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, la 9 del 2011, molto nota, che proprio si occupava del mutamento delle regole, dei concorsi, scusate il bisticcio, a concorso in corso. E quella pronuncia della plenaria ricordava che devono ricorrere delle motivazioni di interesse pubblico e che la modificazione delle regole deve essere ragionevole. E questo è ribadito dalla quinta sezione, 1669 del 2018. E mi sembra che qui le motivazioni di pubblico interesse ci siano tutte e che non ci sia ragione di dubitare della ragionevolezza di una modificazione delle norme vigenti che hanno dimostrato di essere troppo farragendosi. È chiaro che occorre... ...1756 del 2012. Mi scuserà Presidente, mi scuseranno i componenti della Commissione, se come si dice do i numeri, insomma, ma qualche indicazione puntuale di giurisprudenza forse è utile. E ancora, in giurisprudenza, sono state contestate le modificazioni delle regole concorsuali adottate con leggi di provvedimento e addirittura dopo la formazione delle graduatorie. C'è una recente ordinanza del TAR del Lazio, 198 del 2020, che ha sollevato addirittura una questione di costituzionalità che mi risulta, di la verità, tuttora prendente. Ma qui non siamo di fronte a una legge di provvedimento, pensiamo a una legge generale, e non ci troviamo di fronte ad una legge che si applichi a concorsi già espletati perché il comma 3 dell'articolo 6, se non ricordo o male, stabilisce, nell'articolo 4 forse, scusate, no, il comma 3, scusate, il comma 3, sempre dell'articolo 10, stabilisce che si applicano le nuove norme soltanto a condizione che non sia stata svolta alcun'attività. Quindi il concorso non è stato espletato. Semmai sarebbe opportuno, anzi io direi davvero necessario, definire in modo più preciso che cosa si intende con non è stata espletata alcuna attività, perché si possono intendere moltissime cose e sarebbe bene scioglierlo questo nodo perché potrebbe essere foriero di contenzioso. Qualche dubbio invece io avrei sulla concreta attuazione di mutare regime, ma sono dubbi tutti, a mio parere, facilmente risolvibili in questa sede, che è la sede della conversione in legge, nella quale possono essere adottati degli amendamenti. Li vedo e ve li sottopongo questi dubbi in rapidissima sequenza. La prima questione è l'eccessivo margine di discrezionalità che l'articolo 10 confida all'amministrazione nella scelta delle modalità da seguire. Se leggete il comma 3, come avete letto e come ben conoscete meglio di chi vi parla, vedete con agevolmente che si dice che le amministrazioni precedenti possono, che le amministrazioni precedenti possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e via discorrendo, tutte formulazioni che a mio avviso aprono un margine di eccessiva discrezionalità in favore delle amministrazioni. Come ha dimostrato la sentenza 195 del 2019, molto importante della Corte di Dio, ... Ne elenco qualcuno. Proporzionalità della complessità del procedimento selettivo a livello delle posizioni a concorso. Funzionalità delle prove all'identificazione del candidato più adatto alla copertura di quello specifico posto, almeno in riferimento alle mansioni connesse. Rapidità della selezione congiunta alla sua serietà e via discorrendo. Quindi basta in sede di conversione adottare qualche emendamento che delimiti l'ambito discrezionale del potere della pubblica amministrazione. Nella stessa prospettiva, segnalo alla Commissione, l'ambiguità della voce verbale possono, di cui al comma 1 lettera C, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale. Perché segnalo? Perché se si trattasse dell'affermazione della valutabilità di titoli ed esperienze, questa, diciamo, flessione facoltizzante del verbo si presterebbe all'equivoco. Se si trattasse del conferimento di un potere discrezionale all'amministrazione, ricadremmo nelle osservazioni precedenti. C'è troppa discrezionalità non delimitata, non può essere l'amministrazione a stabilire se i titoli si valutano o non si valutano, lo deve dire il legislatore. Seconda osservazione, riapertura dei termini di partecipazione ai concorsi che è contemplata dal comma 3. Io penso che questa esigenza di riapertura sia ineliminabile quando si modificano le regole. La giurisprudenza amministrativa, lo ha prima volta ricordato, anche qui cito una pronuncia di Consiglio di Stato, quarta sezione, 4731 del 2017. Ma questa riapertura, questa esigenza dovrebbe essere armonizzata con quella di rapidità che è enunciata al comma 1. Cioè bisogna fare presto. E quindi la riapertura dei termini dovrebbe essere limitatissima. Lo spazio e il tempo, il sofferto dalla riapertura, dovrebbe essere piuttosto limitato. Altrimenti si contraddirebbe quello che dice il primo commento. Penultima osservazione, l'esigenza di prevedere un accesso per titoli, che tanto ha fatto discutere, potrebbe essere contemperata con l'esigenza di massima apertura degli accessi, massima apertura compatibile con l'esigenza di non rendere disfunzionale il meccanismo, utilizzando un meccanismo che chiamerei modulare, perché si potrebbe stabilire, primo, che per l'accesso alla prova scritta sia necessario, scusate, il superamento di un punteggio minimo nell'accertamento dei titoli. E quindi l'elenco dei titoli spendibili potrebbe essere anche piuttosto ampio. Secondo che però il numero massimo dei candidati ammessi alla prova sia comunque contingentato, con la conseguenza che il superamento del punteggio minimo dia la chance, ma non la garanzia dell'accesso alla prova successiva, così evitando problemi di sovraffondamento. Ho finito, Presidente, con un ultimo rilievo veramente telegrafico. Ci si riferisce alla possibilità di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni. Questa è prevista dal comma 6. Personalmente penso che questa sia una previsione che non pone eccessivi problemi di legittimità. la suddivisione in sottocommissioni delle commissioni esaminatrici è già prevista dalle norme generali del 1994. però questa possibilità è un rimedio al rischio di disparità di trattamento. Ecco, dunque, Presidente, Signori della Commissione, è quello che ritengo si possa osservare in riferimento a questo disegno di legge di conversione del decreto legge numero 44 e quindi concludendo osserverei che si tratta di problemi di opportunità o di legittimità agevolmente risolvibili e che i gravi vizi di legittimità costituzionale che da alcuni sono stati ravvisati in realtà non sussistano certo a condizione che si rimedi alle problematiche che ho indicato con un semplice esercizio di attività implementativa. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie, Professore, per il contributo che ci ha fornito. Davvero prezioso. Do la parola alla Professoressa Daniela Bolognino, avvocato ed esperta di pubblico impiego privatizzato. Prego, avvocato. Buongiorno, Presidente. Io saluto e ringrazio lei, Presidente, i Vicepresidenti, Vincenzo Garruti e Nazario Pagano e tutti gli illustri senatori. Saluto inoltre il Professor Massimo Luciani. Mi è stato chiesto di porre un po' l'attenzione sul tema dei concorsi pubblici, quindi sulla formulazione dell'articolo 10. Il tema dei concorsi pubblici è certamente di primaria importanza per il rilancio della pubblica amministrazione, una pubblica amministrazione che ponga al centro la qualità. E quindi il concorso pubblico come metodo per selezionare e attrarre i migliori e quindi garantire attraverso le giuste risorse umane che l'amministrazione operi con il metodo efficace, efficienza e per la soddisfazione dell'interesse pubblico e dei cittadini. In questo momento storico, attorno al tema dei concorsi pubblici, ruotano, diciamo, il tema dei concorsi pubblici ruota attorno a due grandi tematiche, secondo me. Uno risponde ad un'esigenza temporanea, l'altro risponde ad un'esigenza di sistema. L'esigenza temporanea è quella di far svolgere i concorsi pubblici anche in fase emergenziale, quindi superando la sospensione e le limitazioni previste per l'emergenza sanitaria. L'altra esigenza è un'esigenza più profonda, che è quella di sistema, cioè di cambiare le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, per renderle funzionali alla selezione dei soggetti che lavorino nell'APA, non di oggi, ma per l'APA del futuro. Detto questo, mi sembra di vedere che in qualche modo questo decreto guardi a queste due esigenze. infatti è idealmente, secondo me, suddivisibile in tre parti. L'articolo 10 si occupa in maniera puntuale ed è configurabile una parte certamente a regime. Questo è quanto previsto dai commi 1, 2, 6, 7, 8 e 9. Non c'è infatti un riferimento a un limite temporale né ci sono ancoraggi alla permanenza dello stato d'emergenza. Un'altra parte invece è avvigenza temporanea ed è legata allo stato emergenziale. Vi fanno riferimento i commi 3 e 5. E poi c'è una parte dedicata a specifiche procedure concorsuali, in particolare il comma 4 e il comma 10 e poi c'è la proroga di una graduatoria specifica al comma 11. Seguirò questa struttura ideale concentrando per ragioni di tempo l'attenzione su alcune specifiche tematiche e poi ovviamente vi manderò un testo scritto perché insomma le questioni come diceva il professor Luciani effettivamente sono molte attorno a questo articolo. La parte a regime i commi 1 e 2 sembrano di allineare delle misure semplificate a regime per il reclutamento del personale con incarico non dirigenziale e soprattutto personale nell'ambito di pubblico impiego privatizzato. Ne sono esplicitamente esclusi il personale dell'articolo 3 del 165 quindi tutti quelli in regime espressamente pubblicistico. La disposizione poi opera in deroga sia a quello che è il regolamento madre dei concorsi pubblici che è il 487 del 94 sia in deroga alla legge 56 del 2019. Qual è l'obiettivo dichiarato di questo comma 1? È ridurre i tempi di reclutamento del personale quindi al fondo c'è una razio distinta all'accelerazione nel concorso pubblico. Qual è il metodo che utilizza il legislatore? Individuare modalità semplificate di svolgimento delle prove e ciò avviene attraverso tre filoni di intervento. Uno la riduzione del numero delle prove due l'ulteriore spinta all'innovazione e alla digitalizzazione tre l'utilizzo dei titoli titoli legalmente riconosciuti e titoli altri tra cui anche l'esperienza professionale analizzo alcuni aspetti significativi ai fini della conversione su queste tre tematiche la riduzione del numero delle prove si passa da due prove scritte e un orale a una sola prova scritta e una prova orale quindi la spinta è all'accelerazione per sottrazione si riducono il numero delle prove non si è fatto nessun intervento sulla qualità e la tipologia delle prove da moltissimo tempo si parla di migliorare la capacità di reclutamento del personale nel settore pubblico e quindi questo per assumere del personale con competenze professionali adeguate ce lo chiede anche il dispositivo per la ripresa e la resilienza che questo nuovo personale dovrà andare a gestire occorrerebbe immaginare e possibilmente forse anche visto che questa è una norma che è destinata ad incidere a regime sui concorsi nuove procedure concorsuali penso a quelle che sono rimaste purtroppo inattuate linee guida del dipartimento della funzione pubblica del 2018 dove sulle prove si era immaginato un cambio di passo che non va a diciamo ad intaccare l'accelerazione ma influisce positivamente sulla qualità prove scritte semplificate prova patrica situazionale e colloquio tecnico prove scritte semplificate che cosa significa verificare la capacità dei candidati di individuare una soluzione a problematiche professionali con la predisposizione di una nota o di un parere oppure la predisposizione della sintesi di documenti forniti al candidato in sede di concorso sulle materie professionali previste dal bando questo consente di accertare il possesso del grado di professionalità richiesto ai candidati stessa cosa sulla prova pratica situazionale perché è importante comprendere anche l'attitudine al lavoro la capacità organizzativa l'attitudine alla collaborazione si può dunque valutare di intervenire in questa disposizione che è come vi dicevo è a regime puntando non solo alla semplificazione per sottrazione ma alla semplificazione per sottrazione accompagnata da un cambio di passo sulla qualità altro punto sempre sul comma 1 dicevamo è la digitalizzazione si spinge ulteriormente sulla digitalizzazione quindi molto bene questo aspetto e mi posso permettere di segnalare che forse può essere in sede di conversione anche rafforzato e questo portando a regime ciò che è già previsto all'interno del nostro ordinamento per una specifica procedura concorsuale faccio riferimento all'articolo 247 del decreto legge 34 del 2020 dedicato ai concorsi della commissione RIPAM sulla digitalizzazione con un'attenzione particolare anche all'accelerazione si può mutuare probabilmente il comma 4 dell'articolo 247 sulla riduzione dei termini di presentazione delle domande la presentazione della domanda solo in via telematica l'utilizzo coerentemente con la digitalizzazione dell'identificazione dei partecipanti con PEC o SPID il comma 5 la stessa cosa per le commissioni sui lavori delle commissioni il comma 7 prevede espressamente che si possano svolgere i lavori della commissione con modalità telematica terzo tema sempre sul comma 1 dell'articolo 10 è l'attribuzione di valore ai titoli concordo pienamente con quanto ha indicato il professor Luciani come non si potrebbe un mostro sacro del diritto costituzionale che ammiro particolarmente su questa norma diciamo si gioca la tensione tra neolaureati e soggetti con a volte ampio bagallo professionale e culturale come opera la norma la norma segna ai titoli un doppio ruolo uno discrematura dei candidati e questo viene affidato ai titoli legalmente riconosciuti l'altro è la possibilità per i titoli anche altri di concorrere alla formazione del punteggio finale fondamentale sarà per le amministrazioni applicare il principio di proporzionalità quindi varrebbe la pena evidenziarlo già in norma quindi come segnalava il professor Luciani indicarlo espressamente proprio nella norma per quanto attiene ai titoli altri l'operazione di valorizzare i titoli penso sia molto importante sto per utilizzare una parola che viene da tutti demonizzata precariato storico ma occorre ricordarsi di questo precariato storico causato da oltre 20 anni di blocco delle assunzioni e del turnover di cui hanno fatto le spese almeno tre generazioni di giovani oggi non più tali le sacche storiche di precariato però hanno portato avanti l'attività ordinaria della pubblica amministrazione e solo saltuariamente il legislatore ha dato risposta con le stabilizzazioni questo capitale umano però è una risorsa ha un bagaglio professionale quindi senza prevedere degli interventi ad hoc che hanno sempre luci e ombre questa operazione generale di valorizzare i titoli consente di far emergere le professionalità importanti che ha l'amministrazione e non solo inoltre questi interventi proprio perché auspicabili proprio perché destinati ad incidere su una disposizione che è a regime potrebbero fare un po' da banco di prova per capire come funzionano queste modifiche e solo dopo in maniera consapevole intervenire modificando il regolamento del 1994 sulla disposizione a vigenza temporanea quindi facciamo riferimento ai commi 3 e 5 dell'articolo 10 il legislatore opera con una tecnica differente sul comma 3 si incide sulle procedure concorsuali i cui bandi sono già stati pubblicati ma per cui non sia stata svolta alcuna attività condivido pienamente quanto diceva il professor Luciani sull'opportunità di precisare questo aspetto e qui il legislatore dà da una parte una sorta di obbligatorietà che è quella dell'utilizzo degli strumenti informatici e digitali e le misure di decentramento mentre invece lascia la possibilità delle amministrazioni di prevedere l'inserimento dei titoli e di prevedere l'espletamento di una sola prova scritta o una prova orale quindi questo secondo caso ovviamente riapre si prevede l'obbligo di riapertura dei termini di partecipazione quello che mi lascia più perplesso non è tanto il primo periodo del comma 3 quanto il secondo periodo perché? perché il secondo periodo incide sulle misure su bandi ancora da pubblicare se il bando è ancora da pubblicare ovviamente in modo naturale si applicheranno le nuove regole del comma 1 quindi la deroga con il rinvio al comma 1 lettera A come va intesa? va intesa nel senso che riguarda la sola eventuale prova orale o invece è una deroga che riguarda i soggetti destinatari perché al comma A c'è la precisazione che i concorsi sono per il personale non dirigente sarebbe il caso di precisare per evitare che questa deroga eccessivamente semplicistica si applichi a dei concorsi per i dirigenti e ancora sempre per le norme a vigenza temporanea di tipo emergenziale il comma 5 il comma 5 fa riferimento a procedure concorsuali già in corso di svolgimento o con bandi già pubblicati alla data di entrata in vicore del decreto legge e in questo caso il legislatore utilizza un'ulteriore tecnica consente alle amministrazioni di derogare al bando senza riaprire i termini perché la procedura è già in corso allora anche qui la parità applicando le regole del comma 3 anche qui la parità di trattamento dei candidati si trova in un equilibrio che le amministrazioni si troveranno a dover gestire perché se l'amministrazione decide di valutare i titoli è chiaro che non riaprendo il bando tutti i titoli che intende valutare deve aver avuto il candidato ogni candidato l'opportunità di inserirli in sede di presentazione della domanda se ci sono prove più prove e quindi in qualche modo sottrarne una significa sottrarre probabilmente o in alcuni casi l'opportunità ad un candidato di collocarsi con un recupero di punteggio rispetto a quello che è già svolto per cui la modifica di regole in corsa va valutata con grande attenzione per non rischiare che la spinta all'accelerazione destabilizzi il parametro di qualità ultimo ambito di osservazioni riguarda le disposizioni su specifiche procedure di reclutamento e in particolare vi segnalerei quella prevista al comma 4 dell'articolo 10 al comma 4 il comma 4 è dedicato alle procedure semplificate per l'assunzione del personale con contratto a tempo determinato per l'attuazione degli interventi di politica di coesione dell'Unione Europea e nazionale per intenderci il bando pubblicato il 6 aprile sul PON Governance in gazzetto ufficiale come procede il legislatore il reclutamento è effettuato con il concorso unico quindi organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica c'è una deroga che è una deroga importante che è quella sul previo esperimento della mobilità volontaria per l'assorbimento dell'esubero di personale e si prevede una procedura semplificata molto semplificata perché la procedura prevede una valutazione di titoli l'esperienza professionale sia ai fini dell'ammissione sia per concorrere al punteggio finale una sola prova scritta con quesiti e risposta multipla è l'esclusione della prova orale ora bisogna fare attenzione perché si comprende la celerità ma probabilmente questa prova è eccessivamente semplificata perché con riferimento ai titoli non si fa alcun cenno ai titoli legalmente riconosciuti quindi questo significa che qualunque tipo di titolo potrebbe teoricamente andare a fare da sbarramento la prova orale è esclusa e l'unica prova di fatto è un quiz a risposta multipla ma chi stiamo andando a selezionare per intenderci e per farci un'idea il personale che con questa prova ci va a selezionare è quello dell'area A3 quindi parliamo dei funzionari con livello non dirigenziale che svolgono funzioni di direzione coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante o con funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico quindi la prova per quiz è come unip a prova di selezione di questo personale tecnico che opererà un importante traghettamento verso il cambiamento delle nostre amministrazioni forse va ricalibrata in sede di conversione ci sono comprensibili esigenze di celerità però sarebbe meglio prevedere una prova concorsuale che faccia emergere la qualità dei candidati piuttosto che le doti di memoria grazie grazie davvero dottoressa Bolognino come sempre chiedo ai componenti della commissione se ci sono domande per i nostri ospiti non vedo vedo richiesta di domande senatrice Mantovani grazie ai professori che sono intervenuti per l'illustrazione io ho alcune domande appunto riguardo all'articolo 10 la prima in merito all'ultima affermazione della professoressa Bolognino riguardo questa procedura eccessivamente semplificata mi sembra che sia già stata messa in opera dal bando 2800 per funzionari esperti per il sud e quindi non sembra che ci sia più spazio per intervenire in questo caso diciamo sì convengo che come è stato detto all'inizio dell'illustrazione è necessario reclutare più velocemente e personale esperto che è stato perso nel corso dei vent'anni in cui si è proceduto a una esternalizzazione delle competenze veramente molto molto forte allora mi domando se si potrebbe in qualche modo cercavo anche dei suggerimenti da parte vostra per capire se è possibile creare una norma che possa distinguere i concorsi di per figure di livello junior da figure di livello senior perché noi abbiamo entrambe le esigenze ora nella pubblica amministrazione abbiamo sia l'esigenza di reclutare giovani che possano anche fare risultare anche un'età media del dipendente pubblico un po' più bassa rispetto a quella attuale anche per introdurre una dinamicità delle capacità e potenzialità nuove nella pubblica amministrazione ma abbiamo anche il problema appunto di reclutare ritornare ad avere delle elevate professionalità e quindi la necessità appunto di selezionare in base anche a una professionalità acquisita già nel corso di una attività lavorativa in quest'ultimo caso la norma non si adegua esattamente perché se noi facciamo una preselezione basata sui titoli legalmente riconosciuti non abbiamo la certezza di poter effettivamente cominciare a preselezionare quelle persone che hanno questa competenza e nemmeno per i profili senior non sembra tanto corretta questa previsione sempre basata sui titoli di studio in quanto per i profili junior scusi per i profili junior diciamo il titolo di studio dovrebbe essere diciamo un titolo di ingresso di partecipazione ma non di discriminazione sto cercando di capire come si potrebbe effettivamente riuscire a migliorare la norma per riuscire a reclutare nella pubblica amministrazione le figure di cui c'è realmente bisogno volevo fare anche un'altra domanda rispetto a sempre a questo a questo articolo 10 agli altri commi riguardo alla temporaneità di alcuni dei commi se non è il caso anche di rendere temporanei altre previsioni e per ultimo invece sul punto trattato dal professor Luciani riguardo l'obbligatorietà delle vaccinazioni per il personale sanitario mi domando inizialmente si prevedeva appunto che le vaccinazioni dovessero essere totalmente volontarie e è stato ripetutamente detto che non sarebbero state messe obbligatorie attualmente la previsione di questo decreto prevede che siano obbligatorie per tutto il personale sanitario che ricomprende anche personale che non ha particolari contatti con il pubblico e quindi non ha nemmeno particolari diciamo non non provoca eccessive problematiche dal punto di vista sanitario e inoltre anche nel dossier si legge che che comunque diciamo la la l'adesione l'adesione alla vaccinazione doveva utilizzare lo strumento della persuasione ora mi domando come è possibile fare diciamo conciliare le obbligatorietà verso una categoria di persone che assolutamente dovrebbe essere persuasa per eh per per l'adesione professionale a essere persuasa già di per sé se ehm se la vaccinazione diciamo ehm è conosciuta no le le ehm trattiamo con persone che dovrebbero avere piena conoscenza e consapevolezza di ehm di che cosa comporta la vaccinazione e quindi essere nel massimo livello di accettarla dal punto di vista volontario ok se le se queste persone non rifiutano la vaccinazione eh i punti interrogativi sorgono abbastanza naturali grazie senatrice mantovani ci sono altre domande non ci sono la parola no io volevo dire pagano la collega si è intervenuta nel merito quasi come se fossimo in discussione generale io eh pregherei soltanto il professor Luciani e l'avvocato Bolognino gentilmente eh di farci avere un loro siccome entrambi hanno rivolto dei suggerimenti eh di merito eh soprattutto in come dire definirei suggerimenti emendativi eh sarebbe per noi estremamente utile che producessero anche un eh un elaborato scritto credo che sarebbe utile per tutti noi grazie prego eh non so se Luciani o la dottoressa Bolognino o entrambi come immagino vogliono eh intervenire per dare un riscontro ai requisiti posti dalla collega Presidente forse la prego non posso parlare prima lei perché la prima domanda è stata riporta a lei benissimo grazie grazie professore avvocato Bolognino grazie sì eh senatrice Mantovani intanto grazie perché questa domanda ci permette di fare eh delle precisazioni allora sui titoli come dicevamo la questione è molto dedicata perché si gioca la tensione tra i neolaureati e eh il personale che ha un ampio bagaglio eh professionale e culturale quindi qui ehm diciamo eh il legislatore eh andrebbe un po' eh voi come legislatori calibrato inserendo posto che è poi è l'amministrazione che individua anche sulla base di quelli che sono eh le qua diciamo i titoli richiesti per l'accesso a determinate qualifiche questo è previsto all'interno della contrattazione collettiva ehm l'inserimento dei principi di proporzionalità funzionalità all'interno del comma uno certamente eh aiuta nella eh definizione di un quadro che sia modellato sul eh singolo concorso e che sia modellabile dall'amministrazione sul singolo concorso è chiaro che i titoli eh in qualche modo la quando vengono utilizzati come titoli legali per come sbarramento per eh l'accesso alle prove concorsuali e quindi al posto delle delle prove preselettive precedenti eh deve essere eh proporzionato per evitare che lo sbarramento sia tale da restringere troppo il il numero dei candidati ammessi alle prove eh successive eh e quindi da penalizzare eccessivamente i neolaureati eh per quel che riguarda poi eh l'assunzione di personali di qualità i titoli aiutano ma non bastano quindi il cambiamento delle prove e quindi il cambiamento qualitativo delle prove aiuta moltissimo perché eh bisogna a iniziare a a ragionare come da tanto tempo eh si ragiona sulla modalità di reclutamento e quindi la la ricerca delle cosiddette soft skill è fondamentale anche per l'amministrazione quindi quell'indicazione sul tre tipologie di prove può essere una dei e quindi sostanzialmente anche legificare quello che voi come legislatori ritenete possa essere utile di quelle linee guida del duemila diciotto può aiutare a selezionare il personale che abbia le capacità professionali adeguate al profilo messo a concorso e qui vi dazzo professore grazie eh do la parola al professor Luciani grazie presidente telegraficamente eh la senatrice Mantovani ha correttamente distinto tra il reclutamento di juniores e di seniores e mi pare che però su questo punto le cose che ha detto la collega Bolognino a quello che ho detto io vadano incontro all'esigenza di modulare il tipo di accesso alle esigenze che sono il visticcio che sono vantate dall'amministrazione è sufficiente l'esercizio emendativo che ci eravamo permessi di suggerire per venire incontro alle ai dubbi alle perplessità che sono stati avanzati dalla della senatrice Mantovani per quanto riguarda le vaccinazioni davvero una battuta insomma la vaccinazione obbligatoria è prevista proprio quando non funziona la persuasione e ora il fatto di essere un operatore sanitario non significa essere in possesso delle conoscenze necessarie per sapere qual è l'efficacia e quali sono i rischi dei vaccini io credo che in tutto il mondo ci siano pochissime persone che lo sanno tutti quanti noi i di compresi gli operatori sanitari in qualche modo ci affidiamo il legislatore ragionevolmente ha previsto l'obbligatorietà che non è coattività non è che si prendano gli operatori sanitari e li si faccia vaccinare per forza c'è un'obbligatorietà la stessa senatrice Mantovani giustamente ha detto ma c'è del personale che non ha contatti con il pubblico ma il decreto legge lo prevede appunto cioè la conseguenza della non sottoposizione alla vaccinazione è esattamente questa non avere contatti con il pubblico per evitare i rischi di contagio ma penso che sia un punto di equilibrio sufficiente non si usa la forza fisica per imporre la vaccinazione si prevede un intervento obbligatorio e certo chi aderisce volontariamente aderirà con maggiore giubilo diciamo alla pratica vaccinale insomma infine al senatore Pagano dico che il testo scritto io l'ho già elaborato ma è in una condizione di eccessiva rozzezza confido entro la serata di predisporlo e come sempre di indirizzarlo alla commissione confidando nella vostra comprensione perché si tratterà come sempre di un testo molto sintetico e operativo grazie presidente grazie professore grazie ai colleghi questa seduta di audizione è terminata grazie avvocato Bolognino arrivederci io manderò il testo ovviamente certamente grazie 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 grazie